Il Vangelo non è utopia, può diventare realtà, anche se non è facile essere cristiani e fare impresa. Francesco accoglie e incoraggia così oggi un gruppo di imprenditori francesi, parlando di vincoli e leggi del mercato e della globalizzazione e insegnamenti sociali della Chiesa. Temi già della sua enciclica Laudato Si la richiama. Un grido di allarme per il deterioramento della nostra casa comune, come pure davanti al moltiplicarsi delle povertà e delle schiavitù che conoscono oggi innumerevoli esseri umani. Tra il conquistare mercati, incrementare produzioni e consumi e il garantire anche lavoro, salari, impieghi stabili e protezione dell'ambiente, immagino, commenta il Papa, quanti conflitti di coscienza per non mettere a tacere i propri ideali, sentirsi impotenti perché una risposta efficace subito non c'è, però è possibile, Bergoglio aggiunge, cambiare poco a poco abitudini, stili, relazioni di lavoro con i collaboratori, diffondere nuove culture aziendali. Un processo forse lento all'apparenza, soprattutto quando si tratta di convertire le mentalità, ma l'unico che consente progressi reali. Una conversione spirituale, anzitutto la chiama il Papa, e per prendere decisioni più libere e serene, semplicità e sobrietà raccomanda. Un modo alternativo di considerare la qualità della vita, commenta, senza ossessione del consumare.